Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Un grave lutto ha colpito Cristina D'Avena, che ha reso omaggio alla scomparsa di Alessandra Valeri Manera, storica autrice e direttrice artistica del settore ragazzi per Mediaset, nota per aver scritto i testi di molte celebri sigle dei cartoni animati interpretate da D'Avena, come Occhi di Gatto, l'incantevole Crimi e Magica Doremi, in un toccante post su Instagram, accompagnato da foto che le ritraggono insieme, D'Avena ha espresso il suo dolore e gratitudine, affermando, continuerai a vivere in ogni nota e in ogni parola che hai scritto per me. Rivolgendosi all'amica con affetto, la cantante ha ricordato i loro oltre 40 anni di amicizia, un legame che andava oltre la semplice collaborazione professionale. Ciao Ale, ciao amica mia, amica di mille avventure, ha scritto D'Avena, sottolineando quanto sia stato difficile per lei trattenere le emozioni e rispettare l'intimità dell'ultima fase della loro amicizia. Ha descritto Valeri Manera come la penna magica che ha dato voce ai suoi sogni e come un'amica fidata sempre pronta a proteggere e consigliare. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili. Sei stata, sei e sempre sarai parte della mia vita, ha concluso D'Avena, evidenziando la profondità del loro legame.